Musica Etg più today buongiorno ben ritrovati e buon inizio di settimana all'indomani del voto ovviamente i riflettori sono tutti puntati su quello che è emerso dalle urne mancano ormai poche sezioni ma il quadro politico è ben chiaro e lo è stato sin da subito il risultato delle elezioni parla di un centrodestra che ha vinto che ha vinto anche in modo molto netto e trainata da Fratelli d'Italia con il 26% è nettamente il primo partito ci sono poi ovviamente tutti gli altri risultati c'è il centro-sinistra che vede il PD non superare il 20% c'è il dato del Movimento 5 Stelle che in qualche modo sorprende perché è comunque il terzo partito dietro Fratelli d'Italia e dietro al PD con il 15% i dati li andremo a vedere tra pochissimo insieme sono già sul portale istituzionale quindi su Eligendo che ci sta fornendo ovviamente in tempo reale i dati aggiornati per quanto riguarda l'Italia ma poi è possibile ovviamente andare a analizzare insieme tutti gli scenari tutti quelli che sono i numeri a livello regionale e provinciale è una mattina sicuramente in divenire la nostra perché cercheremo di andare a sentire le voci di tutti coloro i quali sono stati protagonisti in questa campagna elettorale e lo sono anche oggi appunto all'indomani del voto sicuramente avremo modo di parlare con Fratelli d'Italia vi annuncio che sarà con noi tra poco Marco Snato l'onorevole Snato e sicuramente con lui faremo tutte le considerazioni del caso rispetto a questo importante dato che è uscito dalle urne cercheremo di analizzare anche le parole della leader di Fratelli d'Italia e con ogni probabilità futura premier Giorgia Meloni la prima donna a ricoprire questo incarico perché sapete insomma anche nelle scorse settimane era stato chiarito che in base alle intese pre-elettorali interne al centro-destra i partiti avrebbero sostenuto la leader o il leader che avrebbe appunto raggiunto e totalizzato più voti all'interno del centro-destra ovviamente si aprono numerose altre valutazioni con i risultati di Lega e Forza Italia molto al di sotto delle aspettative per quanto riguarda il carroccio di tutto questo parleremo come vi dicevo una mattina in evoluzione perché cercheremo di farvi sentire le voci dei protagonisti e intanto vado ad aprire la nostra finestra della Lombardia perché sicuramente una voce importante ci arriva dall'ospite che è assieme ad Elisa Santa Maria collegata oggi da Lecco buongiorno buongiorno Michela e buongiorno a tutti gli amici di ETG Today buongiorno dall'altro ramo del lago di Como siamo a Lecco e con me c'è il sindaco Mauro Gattinoni sindaco buongiorno buongiorno e benvenuti sul ramo giusto del lago di Como è giusto così iniziare così subito in apertura partiamo dal commento ai risultati elettorali questa volta i sondaggisti l'hanno indovinata siamo di fronte a una vittoria schiacciante del centro-destra un partito come Fratelli d'Italia che ha sbancato un 5 Stelle che ha fatto il pieno in prevalenza al sud e un'area di centro-sinistra tecnicamente in crisi con un terzo polo senza identità e comunque condannato all'insignificanza effettiva direi che imbarazzanti sono le parole di Miloni di ieri sera perché chiedere oggi un appello alla responsabilità dopo che per due mesi si è fatto di tutto per spaccare mi sembra ovviamente una contraddizione ma ovviamente siamo tutti in attesa delle decisioni del capo dello Stato e quindi poi della composizione del nuovo governo Lei è stato eletto nel 2020 con una coalizione di centro-sinistra qualcosa è cambiato da allora? Qualcosa è cambiato, il pendolo è oscillato nel centro-destra in maniera molto marcata anche in città qui a Lecco tenete presente che due anni fa la città era di fatto centro-destra e centro-sinistra erano di fatto equivalenti tant'è che io al secondo turno vinsi solo per 31 voti di scarto quindi di fatto un'equivalenza reale e oggi viceversa osserviamo che Fratelli d'Italia ha un peso preponderante e mi chiedo onestamente in una lettura decennale di questi fenomeni di voto dopo l'ubriacatura del rottamatore dopo c'è stata quella del qualunquismo del 5 Stelle e Lega oggi questo populismo antisistema di centro-destra dimostra quanto il voto sia irrazionale poco identitario e poco radicato un tema che mette ovviamente tanti punti interrogativi sulla tenuta della nostra democrazia Michela da studio ha detto giustamente Fratelli d'Italia ha trainato il centro-destra Lega e Forza Italia infatti sono molto più in basso separati da un divario che non raggiunge 20 punti per poco in realtà insomma comunque davvero un distacco notevole il tracollo della Lega e di Forza Italia in particolar modo su questo territorio è davvero il dato più critico del centro-destra così come ripeto Forza Italia fa vedere muscoli non suoi ma quelli di un dissenso generalizzato viceversa la perdita di elettori della Lega rispetto al trend storico in territorio come il nostro è il vero dato da leggere una crisi di leadership evidentemente una crisi di programma questo ovviamente nulla toglie su come andrà il circuito nazionale del prossimo giro di governo c'è da dire che forse una discussione è da aprire anche a livello territoriale Il centro-sinistra secondo lei invece che cosa ha pagato più il fatto di essersi diviso mentre in passato si era presentato più unito? Beh la scelta di questo terzo polo è stata irrazionale dal punto di vista matematico di mero funzionamento della legge elettorale divisi si perde e questo lo sapevamo dal momento in cui Calenda si è rimangiato la parola nei confronti del PD e ha deciso di correre da solo per una credo rivalsa di posizionamento reciproco all'interno dello schieramento del centro-sinistra che ovviamente non ha pagato perché il personalismo non paga ora si tratta a mio avviso di ricostruire un discorso e un programma di medio e lungo termine che riesca però ad ascoltare meglio i territori questi candidati paracadutati dalle segreterie del partito sul territorio non soddisfano nessuno né gli elettori né poi gli amministratori che per il prossimo quinquennio avranno a che fare con soggetti non radicati e quindi che meno riescono a rispondere alle esigenze della gente e cos'è democrazia se non riusciamo a dare queste risposte? Sfogliando, dando un'occhiata ai social tanti i commenti legati al fatto che ora però bisogna mettere in pratica quanto sostenuto in campagna elettorale da parte ovviamente di Meloni e Fratelli d'Italia Beh qui è facile cavarsela con una battuta ogni promessa è debito speriamo che tutte le grandi promesse non si trasformino in debito pubblico perché in realtà abbiamo e sono anch'io in attesa ovviamente di sconti sulle bollette gli imprenditori aspettano l'80% di rimborso degli aumenti energetici abbiamo tutte le nostre società dell'autotrasporto in crisi per il prezzo del gasolio e quindi vabbè tante sono state le promesse speriamo che non diventino debito Sindaco sicuramente ha dato molti spunti da affrontare anche durante la trasmissione eccomi Michela Sì volevo anch'io porre una domanda al Sindaco due in realtà la prima che riguarda anche un po' quello che sarà il percorso del Partito Democratico da qui in avanti sappiamo che c'è una tabella di marcia che comunque è abbastanza assegnata con il congresso che è previsto poi per febbraio o marzo insomma del prossimo anno bisogna capire cosa deciderà di fare Letta perché ha detto io non posso mollare adesso come è stato fatto poi dal mio predecessore in volata bisogna comunque guardare avanti e ripartire anche da questo dato che è comunque seppur di poco superiore al risultato del 2018 questa è la prima cosa che volevo chiederle poi dopo le chiedo anche l'altra Devo fare una premessa io sono sindaco di una collezione di centro-sinistra ma non sono neppure tesserato PD benché abbia palesemente sostenuto il Partito Democratico domenica scorsa si è stato in piazza sul palco insieme a Letta a Monza quindi in realtà le dinamiche interne del PD non mi permettono né di commentarle né tantomeno di avere dei vaticini su quello che potrebbe succedere io però vedendo come si è mosso Letta negli ultimi mesi credo che ci sarà giustamente un'analisi molto approfondita e responsabile di questa dinamica di una campagna elettorale che si dava per spacciata e che invece ha posto dei temi che chi ha vinto oggi non ha ancora risolto perché non esistono oggi risposte su quale parte di PNR vuoi davvero modificare cosa vuoi andare a rinegoziare in Europa che tipo di politica estera commerciale vuoi avere e quindi queste sono domande irrisolte che espongono il nostro paese ad un rischio di incognite credo che il PD ha invece una cultura di governo e una cultura amministrativa e di buoni amministratori locali che la cui interlocuzione può permettere di ricostruire quelle basi a cui facevo riferimento prima che guardino al medio periodo poi le dinamiche congressuali ovviamente non mi permettono neppure di citarle perché non competono in questa fase assolutamente né a me né credo ad un'analisi post voto ancora troppo emotiva L'ultima cosa che le volevo chiedere Mi chiedevi un'altra domanda? Sì, l'altra cosa che volevo chiedervi è il dato però di commentare insieme il dato di Milano perché insomma il centro-sinistra trainato dal PD che si conferma primo partito nel capoluogo Lombardo è comunque un dato ovviamente da analizzare Sì, anche noi a Lecco abbiamo un PD performante perché circa due punti percentuali migliore rispetto alla media nazionale e anche io ho fatto il conto che ha fatto Sala stamattina ce lo siamo scambiati un po' tutti nella chat di quanto sarebbe stato il peso attuale della nostra coalizione elettorale lui l'ha vissuta ha fatto un totale sul 2021 io evidentemente sul 2020 ed effettivamente la sua coalizione supera il 55% quindi dove si amministra bene la gente dà fiducia anche se poi a livello politico si frammenta in partiti che non riescono a livello nazionale a coagulare in una medesima proposta politica io devo dire che nel collegio milanese era pure candidato un lecchesissimo Tino Magni che grazie alla rinuncia di Ilaria Cucchi che era pluricandidata in diversi collegi ed essendo arrivato lui secondo sarà in Senato e quindi avremo come unico rappresentante del territorio un ex sindacalista metalmeccanico di sinistra insomma che in un certo senso rappresenta anche l'anima industriale del nostro territorio e con lui interloquiremo altri parlamentari questo territorio non è stato in grado di esprimerli purtroppo Michela ti restituisco la linea ci sentiamo tra poco ci aggiorniamo tra poco intanto grazie anche al sindaco intanto prima di passare anche ai prossimi ospiti della nostra mattina insieme volevo riepilogare assieme a voi dati praticamente aggiornati in tempo reale sul portale Eligendo con oltre ormai 60.790 le sezioni scrutinate sulle 61.417 allora andiamo a vedere insieme quelli che sono i dati delle coalizioni la coalizione di centrodestra totalizza il 43,93% quella di centrosinistra si ferma il 26,18% e tra poco andiamo anche a vedere insieme i dati scorporati dei singoli partiti il Movimento 5 Stelle lo dicevamo in apertura della nostra mattina insieme è arrivato al 15,3% un dato se vogliamo anche questo non così scontato poi c'è il terzo polo la vera novità di queste elezioni che ha riunito azione Italia Viva che si è fermato al 7,76% non ha raggiunto l'obiettivo del 10% che si era prefissato e poi a seguire insomma ci sono tutti gli altri risultati quindi l'Italia con paragone 1,91% poi Unione Popolare 1,43% Italia Sovrana e Popolare 1,24% e scendere poi tutti gli altri che ricordiamo questo è l'assetto sono i dati per quanto riguarda la Camera per quanto riguarda invece le singole coalizioni quindi centro-destra e centro-sinistra andiamo a vedere insieme il dato scorporato quindi Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni ha superato il 26% lo ricordiamo che inizialmente l'obiettivo di Fratelli d'Italia era almeno superare il 25% o superare la somma di voti di Lega e Forza Italia e l'obiettivo è stato raggiunto la Lega si è fermata all'8,8% 8,82% Forza Italia di poco sotto all'8,10% noi moderati Lupi, Toti Brugnano e Udc 0,92% andiamo a vedere anche i dati della coalizione di centro-sinistra Partito Democratico l'abbiamo detto si è fermato al 19,1% Alleanza Verde e Sinistra al 3,64% più Europa a 2,83% e quindi anche in questo caso poi si stanno facendo tutti i calcoli ma non è arrivata al 3% quindi rischio di essere fuori dal Parlamento impegno civico con Luigi Di Maio centro-democratico si è fermato ben al di sotto delle aspettative stiamo sempre parlando della Camera e siamo allo 0,6% il Movimento 5 Stelle lo abbiamo detto poco fa 15,3% questi sono i risultati per quanto riguarda la Camera ci spostiamo al Senato vediamo che comunque la maggioranza dei voti è molto netta siamo al 44,16% per quanto riguarda la coalizione di centro-destra 26% per quella di centro-sinistra Movimento 5 Stelle 15,4% Azione Italia Viva con Calenda 7,73% con paragone 1,87% e poi a seguire tutti gli altri risultati che sono ovviamente consultabili sul portale con tutti i numeri per quanto riguarda i dati scorporati anche al Senato Fratelli d'Italia ha superato il 26% la Lega all'8,89% Forza Etale 8,27% noi moderati 0,89% e per quanto riguarda la coalizione di centro-sinistra vediamo che il Partito Democratico sfiora il 19% siamo al momento al 18,9% poi Alleanza Verdi e Sinistra al 3,53% più Europa 2,94% impegno civico Luigi Di Maio a 0,56% per quanto riguarda i dati nazionali di Camera e Senato poi tra poco andremo anche a dare un'occhiata a quelli che sono i dati regionali e provinciali cercando di fare anche un po' una carrellata dei dati principali sui territori di riferimento andiamo anche a scorrere insieme tra un istante le principali notizie le notizie di apertura ovviamente dei siti di informazione e dei quotidiani online che naturalmente sono concentrate sul voto sui numeri e su tutte le dichiarazioni post scrutinio torno però all'ecco da Elisa Santa Maria Per tornare a parlare di queste elezioni politiche parlando ancora di questo centro-sinistra che si è presentato un po' spacchettato rispetto alle precedenti elezioni non possiamo dimenticare che oltre al Movimento 5 Stelle con Conte poi c'è il Movimento di Di Maio Sì una mossa solitaria questa di Di Maio che probabilmente si è improvvisato un po' statista in seguito agli ultimi due anni di esperienza alla Farnesina non ovviamente riuscendo a convincere nessuno delle sue qualità delle sue capacità quindi non ha portato nulla in coalizione come sempre accade in questi casi la gente vota l'originale quindi hanno votato il reddito di cittadinanza e non certo così un'operazione di macchiaggio che ovviamente era destinata già a perdere e questo è per chiudere un po' insomma la panoramica che stavamo affrontando anche nel precedente collegamento durante il quale lei ha già anticipato alcuni termi importanti anche per il territorio legati all'economia quindi al caro bollette caro materie prime caro carburanti una situazione che sta veramente mettendo in ginocchio molte persone e molte imprese noi possiamo ragionare a diversi livelli ciascuno a casa propria vede quanto costa la bolletta il gas la luce moltiplichiamo questo per una dimensione di un'azienda energivora qui a Lecco abbiamo un settore metalmeccanico che ricopre quasi il 75% delle aziende del territorio in gran parte di questi sono energivori perché fanno fusioni fanno attività anche a forte assorbimento di energia termica ed elettrica ma pensiamo anche agli aziende pubbliche abbiamo tutto il settore dell'idrico che è fortemente energivoro per i sistemi di pompaggio di potabilizzazione di purazione delle acque che ha visto triplicare il costo preventivato dell'energia dall'anno scorso a quest'anno per arrivare poi infine anche ai conti dei nostri poveri comuni che devono ovviamente tenere aperte le scuole pagare l'illuminazione pubblica la nostra azienda pubblica a trasporti solo in gasolio ha visto un 500 mila euro di rincaro di spesa secca rispetto all'anno scorso e noi abbiamo già fatto un ripiano di 110 mila euro per tenere aperta la piscina pubblica quindi sono servizi la cui mancanza avrebbe una ripercussione pesante sulla collettività e i cui costi però a un certo punto devono in qualche modo vedere una soluzione di livello nazionale siamo ovviamente in attesa ecco a livello di cittadini si sono già rivolti a lei ha già raccolto qualche voce di richiesta d'aiuto noi abbiamo da tempo dei servizi per le famiglie incapienti sia per il pagamento delle bollette sia per l'acqua e quindi con dei fondi dedicati dal comune dalla nostra fondazione e dalle partecipate stesse del comune di Lecco riusciamo a far fronte ai casi estremi chiaro è che siamo in terra incognita per quanto riguarda l'ultimo trimestre dell'anno dove prezzi così non si erano mai visti e quindi taluna e famiglia potrebbero scattare nella soglia dell'incapienza e questo è il motivo di grande vigilanza da parte di tutti Sindaco grazie restituiamo la linea allo studio per tornare a parlare insieme di un altro argomento che ci premeva capire anche quello legato al turismo quindi la linea torna allo studio a Michela e noi andiamo subito a collegarci via Skype con l'onorevole Del Barba Mauro Del Barba Italia Viva per un commento ovviamente con lui rispetto a quello che è stato il risultato del terzo polo buongiorno 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 a voi allora partiamo dai numeri e da lì poi iniziamo la nostra analisi diciamo l'obiettivo dichiarato più volte in campagna elettorale era raggiungere il 10% o comunque superare Lega e Forza Italia obiettivo che però non è stato raggiunto beh insomma l'obiettivo dichiarato del 10% riguardava la Lombardia ed è stato raggiunto ed è stato raggiunto anche con punte clamorose penso alla città di Milano e venendo a noi il territorio di Lecco Como Sondrio ha portato dei risultati veramente inaspettati da questo punto di vista anche qui sopra al 10% quindi per quanto riguarda la Lombardia io sono anche responsabile di Italia Viva per la Lombardia un risultato che ridisegna tutti gli equilibri politici regionali quindi adesso studieremo bene perché dopo una notte passata in bianco ora non è il momento di guardare dato per dato collegio per collegio però l'evidenza è abbastanza chiara nasce con forza un nuovo progetto politico e questo progetto politico ha le sue radici nel nord Italia e in particolare in Lombardia il che per una forza liberal-democratica progressista è assolutamente di buon auspicio significa che siamo collegati con le forze produttive del paese e possiamo pensare di espandere questo progetto in maniera significativa Lei ha fatto giustamente un'analisi partendo dal territorio e partendo dal dato regionale che come ricordava lei non sente? Del Barba mi sente? No non la sento non so se lei mi sente io non riesco a sentire Io la sento vediamo se riusciamo a ripristinare Sì ora sì Ecco stavamo dicendo lei giustamente è partito dal dato Lombardo ovviamente da una percentuale che è più alta rispetto a quella nazionale ma a livello nazionale secondo lei come va interpretato il voto e anche alla luce dei risultati del centro-sinistra e del centro-destra Ma a livello nazionale innanzitutto l'affermazione di Fratelli d'Italia è il dato più rilevante assieme alla nostra affermazione in termini di novità politiche quello più importante e più preoccupante dal nostro punto di vista è l'affermazione di Fratelli d'Italia vediamo ora si sta componendo il Parlamento seggio per seggio che tipo di maggioranza soprattutto al Senato ci sarà non sembra che sarà così facile come prospettato governare da parte di un centro-destra così diviso e soprattutto così sbilanciato a destra sarà già questo periodo che ci separa dall'inizio della legislatura il 13 ottobre credo che sarà molto delicato per stabilire quali saranno gli equilibri del futuro governo e se potrà nascere un futuro governo di centro-destra l'altro aspetto rilevante è la tenuta dei 5 stelle anche questo un dato preoccupante soprattutto perché divide il paese in due cioè quella forza è chiaramente radicata al sud e chiaramente con riferimento al reddito di cittadinanza questo dal punto di vista sociale sarà un elemento che dovrà essere tenuto in grande considerazione perché è estremamente delicato legato a situazioni di fragilità ma anche a situazioni di enorme disparità sul mercato del lavoro sicuramente dovremo lavorare su quell'aspetto e last but not least ci siamo noi cioè il paese ha detto che vuole veder crescere il progetto alternativo a quello dei due polli del novecento perché il risultato che ci viene assegnato è un risultato che consente di costruire una nuova formazione politica e di aprire un cantiere da oggi in avanti perché questa federazione possa puntare decisamente al 20% questo è lo spazio che emerge dalla prima lettura dei numeri tornando ai numeri volevo anche analizzare con lei prima di tornare anche su un altro argomento il risultato c'è sempre qualche problema di audio nel momento in cui pongo io le domande da studio se regia mi date un segnale mi sente del barba? ora sì ecco niente volevo fare due riflessioni con lei la prima riguardo sempre i dati del centro-destra e quindi al risultato all'interno del centro-destra della Lega tra l'altro si attende a breve anche la conferenza stampa di Salvini ma ci sono due crolli molto forti molto fragorosi sono quelli della Lega all'interno del centro-destra e del Partito Democratico all'interno del centro-sinistra sono figli di due situazioni diverse quella del Partito Democratico una linea che è quella rispetto alla quale noi ci siamo dissociati da tre anni a questa parte e che ha clamorosamente sbandato durante la campagna elettorale questa alleanza strategica con i 5 stelle questa confusione sulle forze di sinistra e l'ambiguità rispetto all'agenda Draghi e chi invece non l'ha mai sostenuta dall'altra parte la Lega sembra segnare la fine di un'era l'era Saldini l'era della Lega nazionale e insomma non è presto per dire che sia il tramonto della Lega ma sicuramente la fine di quella fase e anche l'arretramento in Lombardia è un arretramento che cambia completamente gli equilibri anche in vista delle prossime elezioni regionali non solo perché Fratelli d'Italia la scavalca e quindi capite bene che questo comporterà un cambiamento di piani totale rispetto a quello che avevano pianificato per il rinnovo della Giunta ma lo voglio ribadire perché la nostra affermazione è veramente importante in regioni Lombardia in particolare su Milano ma sostanzialmente in tutta la regione questo è un dato clamoroso mi ha anticipato mi ha anticipato perché appunto brevemente flash perché ho la pubblicità tra poco volevo proprio chiederle come valutate il vostro risultato alla luce poi delle regionali non so se nel frattempo è caduto il collegamento ci sono ci sono mi ha sentito mi ha anticipato e volevo capire appunto come si colloca il vostro risultato nello scenario politico poi regionale visto che le urne si apriranno anche per questo a breve ma in particolare per le prossime regionali per la Lombardia è chiaro che ora c'è un terzo polo e che è un terzo polo con cui si deve assolutamente fare i conti io credo che servisse da molto tempo rompere questo bipolarismo che di fatto consegnava il monopolio a un centrodestra stanco non più in grado di leggere il territorio l'esperienza Covid lo ha mostrato chiaramente attorno a noi ora dovremo essere molto bradi e capaci nel costruire un'alleanza di forze che vada ben oltre questo risultato già importantissimo grazie Mauro Del Barba buon lavoro grazie a lei buon lavoro buona giornata un saluto a tutti gli spettatori e io torno rapidamente all'ecco dove so che insomma il sindaco è un po' di corsa quindi se torno da voi all'ecco allora Michela siamo riuscite a convincere il sindaco a fermarsi con noi anche dopo la pubblicità perché vogliamo sia toccare l'argomento legato al turismo ma anche commentare le parole di Mauro Del Barba che abbiamo seguito con attenzione quindi ti restituisco la linea ci vediamo se vuoi dopo la pubblicità subito dopo la pubblicità allora noi ci prendiamo una pausa ci vediamo tra pochissimo e allora siamo tornati di nuovo in studio stiamo analizzando i numeri di questa tornata elettorale stiamo commentando insieme ai protagonisti il voto torno subito però all'ecco dove c'è Elisa Santa Maria con il sindaco Gattinoni commentare come abbiamo anticipato prima subito le parole di Mauro Del Barba parole che condivido profondamente nella sostanza nel senso che l'analisi dell'amico Mauro è assolutamente corretta dal punto di vista formale nel senso che sono riusciti a compiere una sintesi tra candidature locali candidature di peso e diciamo un'intercettazione di consenso delle fasce produttive artigianali cosa che è mancato sia al centro-destra sia al centro-sinistra che questo diventi un terzo polo è un progetto politico eventualmente tutto da costruire e la sfida lombarda ci pone questi temi che Del Barba evidenziava perché la locomotiva del paese non può restare senza rappresentanza politica pertanto se ci fossero dei segmenti produttivi che non si sentissero rappresentati né da questo centro-destra né da questo centro-sinistra il tema che Mauro pone è un tema reale su cui bisogna costruire insieme in vista della prossima primavera Sindaco il terzo polo ha raggiunto un maggior numero di consensi nei territori Del Barba ha citato le province di Lecco Sondrio questo può voler dire esattamente come è accaduto a Milano dove la conferma di sala è stata seguita anche da un maggior numero di consensi al partito che dove si votano le persone non solo il partito in territori ben amministrati assolutamente assolutamente qui a Lecco il cosiddetto terzo polo ha superato il 15% quindi parliamo di cifre assolutamente importanti in città al 17% quindi sono una città appunto che come dicevo prima è una città industriosa poi c'è il tema delle persone il terzo polo ha candidato persone locali un imprenditore ed un ottimo sindaco della Brianza e questo ha portato il risultato questo compone il risultato quindi sono queste le domande che dobbiamo tutti quanti porci e che anche le segreterie nazionali dovrebbero porsi quando costruiscono le liste a tavolino tornando sul territorio abbiamo detto che vogliamo affrontare la questione turismo turismo che ha visto protagonista il lago di Como durante l'estate scorsa appena conclusasi Bundi presenze anche qui a Lecco come ha risposto la città il territorio peraltro dopo due anni di pandemia è stata un'estate straordinaria in termini di numeri di afflussi di date e lunghezze di permanenza sul nostro territorio abbiamo davvero riscontrato il tutto esaurito in alberghi ristoranti e anche attività ed esperienze che vengono proposte sul ramo lecchese e soprattutto in montagna dobbiamo essere anche onesti però nel dire che Lecco ha un'offerta turistica ancora troppo limitata noi siamo alla ricerca di investitori che vogliano costruire alberghi nella nostra città noi abbiamo una capienza attuale di circa 1600 posti letto troppo pochi vogliamo almeno strutture da 250 a 300 posti letto che ampliano l'offerta così da tentare di soddisfare il potenziale enorme che ha questa città tenete conto che nei weekend del Gran Premio di Monza dei Saloni del Mobile ma anche avete visto già stamattina in questa media stagione che quindi non è l'alta stagione estiva gli stranieri preferiscono il lago preferiscono questi paesaggi che parlano da sé e quindi noi dobbiamo creare un'attrattiva per imprenditori che scegliono di investire su tutta la filiera del turismo ricezione ristorazione trasporto eventi comunicazione in maniera sinergica in questo senso anche il Comune può fare la sua parte mi viene subito da citare il PNRR sì Michela sì ecco vi chiedo una risposta flash perché ho già in collegamento Skype Osnato e quindi con lui dobbiamo commentare anche i dati ovviamente di Fratelli d'Italia la domanda scusi PNRR PNRR sì grazie allora abbiamo al momento più di 20 milioni di euro intercettati grazie a risorse PNRR con i primi 7 milioni rifaremo gran parte di questo lungolago che voi vedete 2 milioni per il recupero dello scalomerce ferroviario altri 2 milioni per una scuola e per diciamo palestre e attività sportive diciamo è l'inizio di una rigenerazione urbana importantissima e speriamo che non venga ridiscusa un nuovo governo grazie mille sindaco io restituisco la linea a Michela allo studio e allora noi come annunciato poco fa andiamo subito a collegarci con Marco Osnato deputato di Fratelli d'Italia buongiorno evidentemente una notte lunga ma sicuramente per voi un buongiorno sì un buongiorno per noi spero e credo che sia un buongiorno di un ottimo viatico anche per l'Italia insomma finalmente un governo ci sarà un governo eletto per volontà dei cittadini che rispecchierà il dato elettorale che avrà una coalizione che ha un programma coeso quindi credo che il buongiorno sicuramente per noi è significativo ma il nostro auspicio è che lo diventi anche per tutti gli italiani partendo proprio dal dato elettorale non si può che andare a riprendere il dato del 2018 quando Fratelli d'Italia chiedo scusa ma non vi sento più allora vediamo se ripristiniamo abbiamo qualche problema questa mattina con i collegamenti Skype Osnato mi sente? ecco adesso sì adesso la sento perfetto stavo proprio partendo dal dato elettorale perché è inevitabile partire dal dato del 2018 quando eravate di poco sopra il 4% e per arrivare oggi al 26% c'è stata una traghettata importante e sicuramente Fratelli d'Italia è stata in grado di recuperare voti e anche di spostarli all'interno stesso del centro-destra sì io ricordo ancora i miei dati del 2013 quando in Lombardia prendemmo poco più dell'1,5% insomma e l'1,9% a livello nazionale quindi sicuramente per noi è una soddisfazione aver magari resistito anche le paure e i timori e aver continuato con coerenza a fare un lavoro anche e soprattutto in Lombardia che riuscisse a far comprendere i ceti produttivi e i ceti sociali di questa regione che c'era bisogno di un'alternativa a un sistema di governo nazionale che troppo spesso non tutelava proprio questi aspetti oggi sembra che l'elettorato abbia voluto darci ragione e quindi per noi la responsabilità è alta sicuramente il fatto che Fratelli Italia sia il primo partito sostanzialmente regione Lombardia che la coalizione mi pare che superi abbondantemente il 50% ci sta a significare che dobbiamo riuscire a dare una squadra credibile anche per i prossimi cinque anni di regione Lombardia e avere un governo che rappresenti anche a livello nazionale questi territori ho seguito l'intervista del sindaco Gattinoni al quale invidio peraltro il panorama che lo circondava insomma ha ragione c'è necessità di sviluppo c'è necessità di sviluppo turistico che è importantissimo c'è necessità che il PNRR venga calato sul territorio con proposte plausibili e realizzabili in breve tempo insomma non possiamo in questa fase frustrare le aspettative di nessuno tantomeno degli italiani Osnato un'altra riflessione spero che mi senta in questo momento sì 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 perfetto innanzitutto questo risultato è figlio anche del fatto che come diceva lei prima coerentemente vi siete sempre tenuti all'opposizione senza entrare nel primo governo Conte come invece ha fatto la Lega da dove molti voti della Lega sono arrivati al partito appunto guidato da Giorgia Meloni beh immagino di sì che molti voti vengano anche da lì noi non abbiamo fatto una scelta preconcetta di non entrare mai in nessun governo però avevamo chiesto agli elettori nel 2018 un voto e facemmo anche in questo senso un giuramento a Roma a tutti i candidati che non avevano mai governato col PD e coi 5 stelle e credo che abbiamo fatto bene a fare quel giuramento e ancora di più a mantenerlo perché vedi anche l'ultima esperienza di governo quella di Draghi dove le pressioni per entrare sono state forti e insistenti Giorgia Meloni ha sempre detto che non aveva niente contro Draghi non negava l'autorevolezza e l'importanza di un personaggio di quello spessore però non si poteva pensare che un'architrava istituzionale come quello di una Repubblica parlamentare spinta come la nostra una coalizione che andasse dall'EU fino alla Lega passando per 5 stelle Italia Viva PD tutto quello che abbiamo conosciuto non potesse influenzare e a nostro modo di vedere in modo negativo anche l'operato di una persona come Draghi io racconto sempre un aneddoto che molti magari non ricordano quando ci sono state le consultazioni chiamiamole così di Draghi con i segretari dei vari partiti presenti in Parlamento Giorgia Meloni è andata e non ha parlato di ministri di sottosegretari di nomine altre cose ha portato un dossier con 6 punti tanto è vero che Draghi scherzando di sé questa sera mi toccherà studiare ecco questa è Fratelli d'Italia ma questa ancora di più a Giorgia Meloni una serietà anche al limite della rigidità quando si tratta di tutelare l'interesse nazionale noi pensiamo di dover fare un governo con quel atteggiamento con quella serietà gli italiani hanno compreso la nostra volontà adesso starà a noi dare le risposte quali saranno i rapporti però con gli alleati quindi con Salvini e la Lega in primis beh ieri avete visto credo molti di voi hanno visto Giorgia Meloni che ha fatto un discorso dopo che i dati erano più o meno diventati ufficiali ecco dopo aver fatto un intervento seppur breve di carattere politico la prima cosa che ha fatto ha ringraziato Matteo Salvini e Silvio Berlusconi io credo che sia quello il segno di come Giorgia Meloni aveva presente che gli alleati hanno avuto e devono un loro ruolo e deve essere rispettato il loro ruolo poi evidentemente gli equilibri in politica contano i pesi contano e quindi qualcosa si è modificato ma questo non vuol dire che oggi c'è un padre padrone del centro-destra come non doveva esserci prima Meloni ha detto nel discorso che citava anche lei poco fa è il tempo delle responsabilità non deluderemo gli italiani le sfide però sono tantissime vanno dai temi economici occupazionali sociali i rapporti con l'Europa i rapporti anche con le altre forze mondiali insomma davvero un carico importante e tra l'altro abbiamo visto i governi che si sono succeduti fino ad oggi in questi anni probabilmente hanno pagato anche il peso di tutto questo scenario a livello mondiale dalla pandemia al conflitto tra Russia e Ucraina guardi innanzitutto Giorgio Meloni credo che un minuto dopo che siederà sul poltrona di Palazzo Chigi ribadirà ancora l'impegno italiano nei confronti degli alleati atlantici e della difesa della libertà dell'Europa che passa per la difesa della libertà dell'Ucraina su questo non c'è dubbio chi ha voluto anche in questa campagna elettorale sostenere il contrario infilarsi in anche magari qualche dichiarazione un po' imprudente di qualche alleato che evidentemente non era il caso di fare però verrà smentito dai fatti questo voglio essere molto tranchato poi Giorgio Meloni ha un'idea forte di Europa ha un'idea forte di come l'Italia debba restare in Europa ma debba essere una protagonista dell'Europa non debba subire decisioni che altri prendono anche per conto di Italia l'Italia ha delle sue peculiarità delle sue esigenze le esigenze verranno messe sul tavolo e si troverà un accordo che non mortifichi nessuno fino ad oggi l'Italia troppo spesso è stata mortificata e questo non deve essere poi c'è il tema che si lega anche a politiche europee e mondiali della crisi energetica in Italia dei costi della bolletta della difficoltà di dare sviluppo occupazionale in alcune zone del paese ecco su questo noi abbiamo ricette che abbiamo provato anche a suggerire in questi cinque anni le abbiamo aggiornate alla situazione attuale e saranno sicuramente oggetto dei primi consigli ai ministri Osnato due risposte flash le chiedo che il tempo stringe la prima che squadra sarà quella di Giorgia Meloni e la seconda come questo dato nazionale si riverbera si riverbererà anche a livello regionale allora la squadra di Giorgia Meloni sarà una squadra scusate anche la banalità ma seria sarà una squadra che lei sceglierà in base sicuramente a valori condivisi ma di competenze che prescindono anche dalle pressioni che avrà all'interno del partito all'interno della coalizione e all'esterno della stessa ci saranno sicuramente mondi magari non prettamente politici che tenteranno di imporre delle scelte Giorgia Meloni ascolterà tutti ma poi come è abituato a fare deciderà da sola e deciderà sempre appunto con la serietà e il rigore prima di tutto verso se stessa che l'è proprio per quanto riguarda la regione io credo che il dato regionale sia come dicevo forse prima abbondantemente sopra il 50% credo che sia una bella soddisfazione per il centro-destra che governa questa regione nel 1995 Fratelli Italia è il primo partito come dicevo gli equilibri contano in politica i pesi contano però ecco ci sarà un aggiornamento magari di alcune priorità ma credo che il buon governo della regione Lombardia continuerà c'è da fare molto appunto per sostenere le imprese c'è da fare molto per mettere in atto la riforma della sanità ed eventualmente correggerla laddove ci accorgeremo che ci sono dei punti non attuabili e quindi ripeto i Lombardi potranno stare tranquilli che col centro-destra con Fratelli Italia la Lombardia rimarrà sempre un traino di questa nazione e non solo buon lavoro e grazie per essere intervenuto a presto grazie allora io intanto voglio tornare anzi voglio andare sul nostro sito espansionetv.it perché vorrei fornire anche un quadro di quello che è la diciamo il post voto sul territorio della provincia di Como e quindi abbiamo un articolo a firma del direttore Andrea Bambace che riassume quello che è l'andamento appunto in provincia di Como le elezioni del 2018 segnarono l'espluat di Lega e Movimento 5 Stelle nel 2022 anche in provincia di Como il panorama è cambiato partiamo proprio da tonfi e trionfi questo è è stato così sintetizzato questa parte dell'articolo prendiamo come termine di paragone i risultati alla Camera del Collegio Plurinominale Lombardia 2 e partiamo proprio dal risultato della Lega il partito di Salvini è passato in 4 anni dal 33,6% al 16,2 con senso più che dimezzato voti che con ogni probabilità lo dicevamo anche un attimo fa sono rimasti comunque nella coalizione di centro-destra e si sono spostati su Fratelli d'Italia il partito di Giorgia Meloni conferma a Como il boom registrato su scala nazionale passando dal 3,99% del 2018 stiamo parlando sempre del territorio della provincia di Como al 30,6-30,62 del 2022 Forza Italia nel 2018 aveva raccolto il 13,6% dei consensi mentre dalle urne è emerso che si è fermato oggi all'8,54% flette anche il partito democratico dal 19% del 2018 al 15,8% di ieri un fine il Movimento 5 Stelle in Lombardia non aveva mai sfondato come in altre regioni abbiamo visto anche i risultati che ha registrato in questa tornata elettorale al sud ma nel 2018 nel Collegio Lombardia 2 aveva conquistato il 19% ora si è fermato al 5,89% questi dati ovviamente vanno letti anche considerando che nel 2022 è nato il terzo polo che nel Collegio Lombardia 2 lo dicevamo con Del Barba poco fa ha raccolto quasi il 10% dei voti torno rapidamente a Lecco sì Michela perché stiamo letteralmente accompagnando il sindaco in comune dove lo stanno aspettando però prima volevo fargli un'ultima domanda sindaco adesso adesso secondo me il dovere di tutti quanti è un grande rispetto democratico di quanto il nostro corpo elettorale ha espresso quindi senza pretese però l'unica cosa che dobbiamo fare è sederci aspettare con rispetto quanto Mattarella sceglierà di fare e attendere le azioni del prossimo governo chiunque fosse stato al governo non si sarebbe trovato in una situazione semplice sicuramente l'hanno venduta più facile di quello che sicuramente succederà io credo gli amministratori staremo alla finestra e guarderemo le azioni dopo questa ubriacatura di parole non sarà facile ma ovviamente aspettiamo con urgenza le misure tanto promesse di cui c'è così tanto bisogno allora grazie al sindaco di Lecco Mauro Gattinoni per essere stato con noi questa mattina e da Lecco ti restituisco la linea Michela tardi perché probabilmente andremo avanti qualche minuto in più rispetto al solito proprio perché si attende peraltro di sentire le parole di Matteo Salvini da una parte quindi della Lega che commenta questo dato fino a questo momento da questa notte e per tutta la mattina ancora nessuno della Lega di fatto ha parlato e a breve dovrebbe iniziare anche la conferenza stampa di Letta quindi del Partito Democratico quindi anche qui cercheremmo di capire quali saranno le prime parole diciamo ormai a voce praticamente quasi ferme perché i dati sono ormai definitivi mancano davvero pochissime sezioni anzi andiamo a guardare su Eligendo a che punto siamo cercando di dare un aggiornamento per quanto riguarda la Camera vediamo siamo sì ormai siamo a 60.930 sezioni su 61.417 insomma poco si potrà spostare rispetto a quelli che sono i dati che abbiamo letto e commentato anche assieme ai nostri ospiti e allora dicevo che volevo anche rapidamente andare a farvi vedere le diverse home page dei siti di informazione delle agenzie e delle testate online a partire da ansa.it ovviamente in primo piano i risultati tendendo di capire proprio i numeri definitivi ovviamente in primo piano il risultato di Fratelli d'Italia con le parole che ha pronunciato Giorgia Meloni e il tempo della responsabilità Fratelli d'Italia sbanca al nord al sud c'è questo risultato importante del movimento 5 stelle Fratelli d'Italia è il primo partito in 10 regioni il centro-destra guida Fratelli d'Italia vince la coalizione ottiene la maggioranza sia alla Camera che al Senato ed è netto lo abbiamo ribadito più volte in questa mattina insieme il distacco di Fratelli d'Italia al 26% rispetto agli stessi alleati della coalizione alla Lega e Forza Italia entrambi sotto la soia del 10% poi ci sono i risultati ovviamente del centro-sinistra del terzo polo li abbiamo sviscerati insieme ai nostri ospiti anche perché ad esempio partendo proprio dal terzo polo se l'obiettivo nazionale del 10% non è stato raggiunto a livello regionale come ci ricordava Mauro Del Barba insomma i risultati sono stati importanti e sicuramente andranno adesso ad inserirsi in un contesto in uno scenario politico che prende forma e che deve tenere in considerazione anche questo risultato sempre ad ansa.it ci sono le parole di Le Pen e di Orban che parlano di vittoria storica e sui social ci sono appunto le diverse considerazioni e questo tweet se non sbaglio in cui appunto si dice bravi Meloni e Salvini resistono all'Europa antidemocratica dice la leader del Rassemblement Nazionale del Marine Le Pen il ministro degli esteri spagnolo i populismi crescono e finiscono sempre nello stesso modo con una catastrofe e insomma queste sono le varie dichiarazioni post voto in Italia rispetto appunto alla politica ai commenti che arrivano appunto dall'estero ci sono ovviamente poi sempre in primo piano gli scenari e gli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina spari in una scuola in Russia ci sono anche bambini tra i nove morti e i venti feriti e poi ancora si torna alle analisi all'analisi del voto e quindi agli scenari post voto tra l'altro volevo anche darvi un aggiornamento rispetto a quello che sarà la road map di quello che sarà il nuovo esecutivo perché ovviamente adesso ci sono delle scadenze e delle tappe già ben indicate dopo che lo spoglio sarà terminato e che tutti i collegi delle nuove camere saranno assegnati i nuovi eletti cominceranno a registrarsi in Parlamento e questo passaggio partirà secondo appunto quello che è stato definito il prossimo 10 di ottobre la prima seduta delle nuove camere è fissata per il 13 ottobre in quella seduta saranno eletti i presidenti di Camera e Senato per prendere il posto degli uscenti Fico e Casellati il 15 ottobre scadono i termini entro i quali i parlamentari dovranno comunicare poi il loro gruppo di appartenenza questi sono come dire alcune date da tenere a mente lo abbiamo detto il centro-destra comunque va a disporre di una maggioranza molto ampia in entrambe le camere quindi insomma con grandissima probabilità lo abbiamo detto il capo dello Stato poi convocherà Giorgia Meloni alla quale poi assegnerà l'incarico di costruire l'esecutivo questo anche perché come dicevamo all'inizio della nostra mattina insieme secondo anche le intese pre-elettorali che ci sono state all'interno del centro-destra si era detto appunto che i partiti avrebbero sostenuto il leader o la leader appunto che avrebbe conseguito più voti all'interno della coalizione quindi non ci dovrebbero essere dubbi in questo senso e anche le parole il discorso di Giorgia Meloni che abbiamo ricordato anche in alcuni passaggi questa mattina indicano quella che sarà la strada di Fratelli d'Italia da qui ai prossimi giorni e questo invito anche alla responsabilità che ha sollecitato appunto Giorgia Meloni sin da subito andiamo anche al Corriere della Sera in apertura delle pagine nazionali ovviamente i risultati in aggiornamento l'articolo su vincitori e risultati le parole di Giorgia Meloni andiamo a vedere anche rapidamente in aggiornamento appunto le le ultime gli ultimi aggiornamenti proposti dal Corriere della Sera che vedete insomma riepiloga un po' per i orari le diverse interventi diversi punti di analisi anche a livello europeo e non solo quindi stavo cercando di capire se ci fossero già notizie della conferenza stampa di Letta o delle parole di Matteo Salvini ma in questo momento ancora non ne vedo quindi bisogna capire a che ora effettivamente inizieranno a parlare e tutti attendono anche di capire appunto che cosa dirà Matteo Salvini alla luce di questi dati che evidentemente per la Lega segnano un momento di riflessione importante dicevamo per quanto riguarda sempre il Corriere della Sera in apertura appunto questo articolo in aggiornamento e poi ci sono i dati nelle città quindi vengono passate in rassegna le principali città italiane Roma Milano Torino Bologna Firenze Napoli Bari e Palermo andiamo ad esempio a cliccare sui dati di Milano e li andiamo a vedere insieme lo abbiamo anticipato anche poco fa con i nostri ospiti il Partito Democratico quindi la coalizione di centro-sinistra in realtà si attesta con un percentuale importante la coalizione di centro-sinistra arriva al 39% trainata dal PD al 26% stiamo parlando è bene ricordarlo di Milano e poi ancora Alleanza Verdi e Sinistra al 6,4% più Europa al 6,1% impegno civico Luigi Di Maio con centro-democratico 0,33% la coalizione di centro-destra si ferma al 33,2% al 33,29% con anche in questo caso Fratelli d'Italia che traghetta 18,9% la Lega a Milano si ferma al 6,78% Forza Italia al 6,16% noi moderati che sono appunto Lupi, Totti Brugnaro DC 1,37% il dato del terzo polo qui non è assolutamente trascurabile lo vedete Azione e Italia Viva con Calenda hanno raggiunto il 16,34% a Milano il Movimento 5 Stelle è fermo invece al 6,79% quindi questo il dato su Milano come vi dicevo stavamo guardando i risultati delle elezioni per quanto riguarda in questo caso i risultati al Senato e delle politiche a Milano con i dati che sono stati proposti appunto dal Corriere della Sera che fa un focus sulle principali città italiane e poi ancora ovviamente il Corriere riesce a fornire anche una indicazione precisa su tutti i risultati per partito regione e collegio con la mappa dell'Italia ma insomma lo vediamo sin dalla grafica il blu è il colore del centro-destra e vediamo insomma la prevalenza del colore nella distribuzione all'interno dello stivale con appunto alcune eccezioni per quanto riguarda il centro-sinistra e il Movimento 5 Stelle ancora un'ampia pagina ovviamente dedicata al voto ai nuovi parlamentari mentre si stanno componendo appunto le camere come sarà il nuovo Parlamento insomma anche qui si potrebbe andare a leggere insieme insomma quelli che sono i risultati attendiamo ovviamente però di avere quelli definitivi e qui ci sono i prossimi passaggi cosa succede ora qualcosa vi ho già anticipato poco fa perché ci sono delle scadenze da da tenere a mente e che sicuramente sono importanti in questo in questa agenda che va a definirsi cosa succede ora dopo la vittoria del centro-destra alle elezioni politiche Giorgia Meloni sarà con certezza la nuova premier prima donna a guidare il governo in Italia insomma domande che ci stiamo facendo e che insomma è già alle quali è già possibile dare delle risposte andiamo ad ingrandire così leggiamo insieme al termine dello spoglio dopo che tutti i collegi delle nuove camere saranno assegnati i nuovi eletti come dicevo cominceranno a registrarsi in Parlamento e questo passaggio partirà il 10 ottobre l'altra data è quella del 13 con la prima seduta delle nuove camere dove quando saranno eletti i presidenti di Camera e Senato anche questa sarà una partita importante il 15 ottobre scadono i termini entro i quali i parlamentari dovranno comunicare il loro gruppo di appartenenza le consultazioni il processo attraverso il quale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella vi dicevo poco fa arriverà ad affidare l'incarico di formare il nuovo esecutivo potrebbero partire dal 24 ottobre quindi praticamente tra quasi un mese non potrebbero iniziare prima perché il capo dello Stato dovrà ascoltare il parere dei nuovi presidenti delle camere le consultazioni potrebbero durare due o tre giorni dal 27 ottobre il presidente della Repubblica al termine della prima valutazione darà un incarico a formare un nuovo governo quindi stiamo seguendo questa roadmap grazie all'articolo del Corriere della Sera potrebbe essere poi dicevamo darà poi l'incarico a formare un nuovo governo potrebbe essere esplorativo o pieno a seconda delle consultazioni se l'incaricato o l'incaricata scioglie la riserva presenta la lista dei ministri al Quirinale e a quel punto il nuovo governo è pronto a giurare nelle mani del capo dello Stato dicevamo il profilo di Giorgia Meloni il capo del governo sarà di sicuro Giorgia Meloni questa è la domanda la valutazione aspetta il capo dello Stato sarà lui ad affidare l'incarico ma come abbiamo ribadito più volte questa mattina e come stiamo leggendo in base ai risultati il centrodestra dispone di un'ampia maggioranza in entrambe le camere e in base alle intese preelettorali interne appunto al centrodestra essere arrivati a definire che i partiti avrebbero sostenuto il leader o la leader del partito con più voti all'interno della coalizione e di fatto dunque non dovrebbero esserci dubbi sul nome che verrà fatto e verrà proposto al capo dello Stato come futuro premier questo come dicevamo per tracciare un po' l'indirizzo e mettere in agenda le date che da qui in avanti dovremmo tenere a mente quindi diciamo abbiamo davanti un mese importante e un mese in cui peraltro il governo uscente e il nuovo governo dovranno passarsi le consegne su davvero tantissimi temi tantissimi argomenti perché il nuovo governo deve iniziare subito a confrontarsi con una serie di problematiche e di difficoltà che stiamo documentando e raccontando ormai da giorni quindi i problemi relativi al caro energia la distribuzione e l'utilizzo dei fondi del PNRR a proposito di questo tra l'altro stavamo parlando di questo argomento anche con il sindaco di Lecco che ci ha salutato poco fa e vedo peraltro Elisa Santa Maria però già pronta di nuovo a Lecco a raccontarci insomma quelle che sono le sensazioni all'indomani del voto sì il sindaco ci ha lasciato definitivamente per questa mattina perché è corso ad un incontro che aveva già in programma e che aveva peraltro già ritardato insomma per poter commentare le parole che abbiamo ascoltato di Mauro del Barba e poi per tracciare quella panoramica sul turismo e sul futuro della città che così ben ci ha spiegato parlando anche dei fondi PNRR noi abbiamo fatto una camminata per le vie del centro di Lecco una giornata peraltro autunnale con baciata dal sole con un vento che abbiamo già tenuto compagnia durante la nostra diretta siamo riusciti a scambiare qualche parola con gli abitanti che possiamo sintetizzare in realtà molto velocemente perché a prescindere dalle preferenze politiche il desiderio di tutti è che si passi dalle parole ai fatti e si lavori per il bene del paese questo è in sintesi il pensiero delle persone che abbiamo incontrato questa mattina una sorta di augurio di buon lavoro è arrivato dallo stesso sindaco Gattinoni a Giorgia Meloni che potrebbe essere come hai anticipato tu come hai detto tu con tutta probabilità il nuovo premier buon lavoro e ovviamente ci sono parole di sostegno insomma per quello che è comunque e che deve essere il bene dell'Italia ed Alecco è tutto Michela grazie Elisa io prima di chiudere volevo anche aprire come facciamo tutti i giorni la nostra pagina relativa alla viabilità in Lombardia per cui andiamo ad aprirla e a sentire gli aggiornamenti di Anas e allora rapidamente sulla strada statale 9 via Emilia riduzione di carreggiata a causa di lavori di manutenzione che sono appunto già iniziati e proseguiranno fino al 31 ottobre tra l'incrocio Castel San Pietro e l'incrocio Ozzano dell'Emilia in direzione incrocio Ozzano dell'Emilia e poi la statale 494 Vigevanese fondo stradale di Sestato dopo l'incrocio Torre Beretti e prima dell'incrocio Valenza e sempre sulla strada statale 494 Vigevanese viene comunicato un rallentamento al traffico scusate a causa di lavori di manutenzione anche dopo l'incrocio di Abbiate Grasso dell'Esticino e prima dell'incrocio Torre Beretti infine la strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga traffico rallentato a causa di lavori di manutenzione dopo l'incrocio di Novate Mezzola e prima dell'incrocio San Giacomo Filippo questi i principali aggiornamenti vi ricordo che è sempre possibile consultare il sito strade anas appunto it oppure è possibile contattare il numero di pronto anas per tutti gli aggiornamenti noi siamo arrivati al termine della nostra mattina insieme siamo andati anche oltre i nostri consueti tempi nella speranza di riuscire ad intercettare anche le parole di Letta e di Salvini ma evidentemente ancora non hanno parlato quindi seguiranno sicuramente tutti gli aggiornamenti nel corso delle edizioni del telegiornale la prima è già in programma alle 12 e 30 mentre ETG più today torna come sempre domani mattina alle 10 e 30 buona giornata grazie a tutti